Asnetos, Zanatos alla morte, mortale, prendi sul serio la morte, guarda Socrate, è in prigione, viene Fedone, gli dice guarda possiamo andarci, ne ho parlato con i 30 tiranni, anche loro fa comodo se tu scappi e così almeno non si mette in scena il delitto di Socrate che sei famoso in città. Socrate lo guarda e dice ma stiamo scherzando, io vi ho insegnato a obbedire alle leggi qualunque esse siano, quello che avevo da dirvi ve l'ho detto, il mio ciclo si è concluso, datemi la circute non se ne parla più, gente seria, prendi Gesù Cristo, l'ultima cena, uno di voi mi tradirà, orto degli ulivi, va a farsi consolare i discepoli quelli dormono come ghiri, si rivolge al padre, non dice padre se puoi allontanare da me questo calice, perché è Dio onnipotente, di padre se vuoi, sottolineare certi verbi, se vuoi, quindi il padre non vuole la salvezza del figlio, corona di spine, flagellazione, golgota, tre cadute, spada nel petto e alla fine una quasi bestemmia, abba padre perché mi hai abbandonato, messa in scena del dolore, perché? Perché mentre i greci dicono il dolore fa parte della vita e quando la vita ti è favorevole espandila più che puoi, quando sopraggiunge il dolore, substine e abstine, reggilo ed evita di metterlo in scena, invece lì si mette in scena il dolore nella regione cristiana, perché il dolore ha un significato, e che cosa significa? Che riscatti la colpa e fai una capara per l'eternità, e allora il dolore ha senso, che non è neanche un male che il dolore abbia senso, perché quelli che soffrono si consolano pensando che il dolore li purifichi o comunque li prepari il paradiso o qualche cosa del genere, però non è vero, non è vero per la semplice ragione che come dice giustamente Nice, Dio è morto, e se Dio è morto anche la promessa della vita oltre terrena svanisce, Dio è morto non vuol mica dire se Dio esiste, Dio non esiste, di questo discutono quelli che credono e quelli che non credono in Dio discutono di questa roba, Dio è morto vuol dire Dio fa ancora mondo oppure no? Per esempio, se io prendo il Medioevo, dove la letteratura parla di inferno, purgatorio e paradiso, dove l'arte è arte sacra, persino la donna è donna angelo, Dio c'è, perché se tolgo la parola Dio non ha più significato, non capisco più niente in quell'epoca, se tolgo la parola Dio dal mondo contemporaneo non lo capisco ancora, signor sì, non lo capirei più se togliassi la parola denaro che è diventato il generatore simbolico di tutti i valori, o la parola mercato, o la parola tecnica, e allora Dio è morto, non fa più mondo, e dove l'attacchi allora la promessa del futuro? Cos'è questo futuro? Perché si pensa che il futuro porti il Medioevo al passato? Che cosa vogliono dire parole come spero, mi auguro, auspico, quando io sento queste parole divento nervoso, perché sono parole della passività, sto fermo e aspetto, che cosa aspetti? Questa è la condizione attuale. Però i greci invece avevano una visione ciclica. Sì, ciclo come la natura, inverno, primavera, estate, ottuno, inverno, e chi aveva visto tanti cicli che erano i vecchi potevano insegnare ai giovani, oggi non è più così, perché semmai sono i giovani a insegnare ai vecchi, soprattutto dopo che è subentrata l'informatica ci troviamo in questa condizione, che i vecchi vengano messi fuori. Quindi in Italia adesso vogliono che tutti pagano con la moretta elettronica, ma io vado in posta a pagarmi le bollette, perché dopo se no se le metti sul conto puoi intanto talire una cosa è meglio che vado a pagare le bollette in posta. Vedo queste vecchiette, è inimmaginabile che possano pagare quella carta di credito. E allora, che cosa succede? Qual è la domanda che non mi ricordo più? No, che i greci avevano effettivamente la misura ciclica, che però aiuta a avere, secondo me, una misura, la giusta misura di quello che è. La giusta misura, e infatti loro avevano istituito questo modello, come si fa a diventare felici, la parola felicità, Aristotele dice la felicità è lo scopo della vita, non è che l'ha diventato gli americani, siccome loro non sanno niente di Aristotele, penso di un inventato una cosa, ma l'etica di Aristotele incomincia così, lo scopo della vita è la felicità, la felicità si chiama eudaimonia, buona riuscita del tuo demone, cos'è il tuo demone? La tua capacità, quella specifica tua, la tua vocazione, la tua arte, perché cosa sei nato? I giapponesi direbbero la lettera che ti ha inviato l'imperatore, ecco, allora la prima cosa per essere felice è conosci te stesso, conosci il tuo demone, cos'è che ti spinge a far l'attore invece che il commercialista, invece che l'avvocato, invece che, vedi un po' di tirar fuori il tuo demone, quando hai conosciuto il tuo demone realizzalo bene, eu vuol dire bene, eudaimonia, raggiungi la felicità, però ha una condizione, conosci te stesso e quando realizzi il tuo demone realizzalo katametron, secondo misura, secondo misura cosa vuol dire? Che se magari sei un bravo scultore ma non sei figlia e non devi tentare di essere figlia perché non ce la farai e se ci provi prepari la tua rovina, magari sei un attore ma non sei bravo come Mastroianni, se ci provi prepari la tua rovina. Allora i greci questo senso del limite ce l'avevano perché avevano il concetto di morte che era il grande limite, la morte era definitiva e allora a partire da questo grande limite, il limite caratterizzava tutto, i greci non avrebbero mai scolpito i bronzi di riace perché sono fuori misura, loro scolpivano il discobolo, scolpivano l'auriga che sono a misura d'uomo, l'architettura era katametron secondo misura, oggi noi il pi greco non l'abbiamo ancora scoperto che cos'è e però è la chiave per cui sta su il timpano, lo traduciamo con 314 ma non vuol dire niente, è un numero irrazionale, dobbiamo ancora scoprirlo che cos'è il pi greco. Queste cose qui avevano senso della misura, Prometeo che aveva regalato la tecnica agli uomini l'avevano incatenato perché la tecnica non doveva oltrepassare le leggi di natura, noi l'abbiamo scatenato, Prometeo, e adesso noi ci troviamo nella condizione che la nostra capacità di fare è enormemente superiore alla nostra capacità di prevedere gli effetti del nostro fare, la tecnica non sa quale sarà l'effetto della propria ideazione, devi ideare, realizzare e vedere l'effetto, quindi ci muoviamo a mosca cieca. Al buio.